Una piattaforma per il riuso in agricoltura delle acque reflue depurate. È una delle novità presentate da Enea alla fiera internazionale di Ecomondo Key Energy a Rimini. Il prototipo high-tech per il riuso delle acque reflue è stato sviluppato da Enea e Università di Bologna in collaborazione con Gruppo ERA e Irritech nell'ambito di un progetto di ricerca industriale finanziato dalla regione Emilia-Romagna con oltre un milione di euro. L'obiettivo è valorizzare l'intera filiera di trattamento delle acque reflue da abitazioni e industrie e dei fanghi di depurazione in un'ottica di economia circolare. La piattaforma sperimentale in funzione presso il depuratore di ERA a Cesena acquisisce le informazioni sulla qualità delle acque trattate e sulle esigenze idriche di fertilizzazione di un terreno sperimentale coltivato ad arbusti e ortaggi su cui vengono fatti affluire con sistemi irrigui di precisione le acque depurate nell'impianto. Il riuso delle acque reflue in agricoltura rappresenta un aspetto rilevante di economia circolare soprattutto in un paese come l'Italia che è secondi in Europa dopo la Norvegia per i prelievi pro capite di acqua dolce per servizi pubblici di cui circa il 50% per uso agricolo.